ancora una due anni sul miglio, otto in prima, tre in seconda, sono in undici agli ordini dello start mezzo meccanico in movimento dopo l'ottimo tempo di debutto, Vinconti Griff, Gaetano Di Nardi in salchi, il più gettonato tanto per cambiare è un onnesimo figlio di Varenna undici due anni, quinta miglio allineamento che gradatamente va a completarsi, è anche già completato un po' arretrato Verigio numero sette, prende velocità la macchina, partono piani il tre e il quattro si chiudono le aree e si lotta per il comando con la Valencia e Vinconti alle prese, lotta tra i due per il comando, cavalli che affrontano la piegata, si completa il lancio, sta passando la Luis, 13 e mezzo il lancio e siamo al completamento della piegata con Valencia e Luis leader il nove a tabellone, cavalli dopo 400 metri di gara, Violenti in 29 e 3, in terza posizione Verbet Jet, per linee esterne l'undici di Violento Sun, si affaccia il Visconti Griff e va ad impegnare la leader, 600 se ne vanno in 44 e 8, passa il Varen di turno e il Griff al comando sulla seconda curva e sullo slancio ne prende un paio di vantaggio, mezzo miglio è iniziale, ricordate che c'è sempre un po' molto vento, 1 e 1 meno qualcosa, si viaggia da 1 e 16 e cavalli di fronte con Visconti al comando, Valencia a largo Verbet Jet, chilometro in 15 e 7 e 14 e 9 di frazione e a 500 prende netto vantaggio il Varen, cavalli che affrontano l'ultima curva, si distende alla grande, viene anche stappato il Varen, guadagna metri, 14 e 4, 1 e 31 e 3 e quarti di miglio per Corpio Conto, il Visconti targato Griff ed è un assolo da ciliegino sulla torta per questo ennesimo Varen pennellato da Gaetano Di Nardo, viene via Valle Susa numero 1 e viene anche il 7 di Verigio e Verigio trova il barco, Verigio è ottima, seconda e per il terzo probabilmente il numero 1 ma attendiamo, attenzione, attendiamo, per il terzo il giudice d'arrivo accoppiata in famiglia Tony Young, Morgan Di Nardo ma in un 2-1, 15-6, cost to cost, notevole, quest'ennesimo Varen fa varere la differenza, 2-28, corre bene quella di Di Nardo che ricordiamo è partita molto piano e arriva a bomba quella di Manini Dolci che dovrebbe essere quarto ma ripeto, attendiamo, il giudice d'arrivo, è tutto e ora in premiazione, linea allo studio.